Ben ritrovati e ben ritrovati a tutti i telespettatori e le telespettatrice di Tele2000 qui con Ui Pesaro TV, l'ospite di oggi è l'assessore al fare del comune di Pesaro Riccardo Pozzi, buongiorno Riccardo. Buongiorno, saluto a tutti. Riccardo, partiamo da una notizia che è una notizia proprio dell'ultima ora, nonostante i lavori si siano visti già nel corso di queste settimane, ovvero dell'interquartiere barra circomalazione di Muraglia che entra ufficialmente nel vivo. Sì, entra nel vivo con un'accelerata rispetto a quello che è il cronoprogramma dei lavori che si erano previsti e questa accelerazione che consentirà anche di uno svolgimento dei lavori in sicurezza, di quello che è il proseguimento degli interquartieri a sud di Pesaro che quindi collegherà il tratto finale o che oggi si interrompa la celletta con quello che è l'ospedale e il nuovo ospedale. Questo intervento che viene realizzato da Società Autostrade sta all'interno delle opere compensative per il terzo casello, è un intervento che la Società Autostrade ci ha comunicato di voler concludere entro l'estate del 2023. Per questa ultima fase di lavorazione, in realtà questa fase che andrà da metà d'ottobre, dal 14 d'ottobre per 4 mesi, richiede una serie di interventi che per ragioni di sicurezza del lavoro e anche per velocizzare questo tipo di interventi dovrà purtroppo prevedere anche delle modifiche sulla viabilità della città. Le modifiche che interesseranno in particolare via Carloni, che in questi 4 mesi per queste ragioni il traffico dovrà essere bloccato, quindi su via Carloni per questi 4 mesi non sarà possibile transitare. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che ci saranno dei piccoli disagi che cercheremo di gestire anche grazie al lavoro della Polizia Locale, grazie a alcuni piccoli accorgimenti come rivedere le fasi e la durata del semaforo attuale tra Via Fratti e Via Flaminia. E poi servirà anche un'attenzione da parte degli automobilisti, un'attenzione di automobilisti che invitiamo a raggiungere Fano e Pesaro da Fano percorrendo delle strade alternative. Quali sono le strade alternative sono la statale adriatica, quindi la statale e l'autostrada. C'è anche una terza via che però dipende da dove viene, che non incentiviamo, però esiste anche la possibilità di passare per le colline. Queste sono delle 3 strade alternative che suggeriamo a tutti gli automobilisti e che con un'apposita cartellonistica che sarà posizionata già da lunedì, cercheremo di incentivare. Questo per non appesantire troppo il traffico che come naturale purtroppo un po' si reverserà sull'intersezione di Via Fratti. Quindi ci saranno dei piccoli disagi, però siamo di fronte a un'infrastruttura importantissima per la città che porterà via un traffico che non è adeguato rispetto al quartiere, quindi che oggi attraversa il quartiere di Moraglia e che invece poi transiterà su una bretella, un'infrastruttura importante per la città e quindi non solo per i residenti di Moraglia ma per tutta la città. Riguarderà comunque un'area fondamentalmente disabitata, cioè non ci sono abitazioni o negozi in quasi tutto il trato? Non che si affacciano direttamente su Via Carloni, non ci sono abitazioni che si affacciano su... quindi i disagi in realtà per i residenti delle singole vie di fatto non ci sarà, poiché insomma chiunque, qualunque abitazione privata sarà ovviamente possibile raggiungerla senza particolari problemi, è chiaro che però Via Carloni era una via di percorrenza piuttosto importante, quindi durante questi lavori la viabilità verrà rivista, perché l'intervento nel suo complesso è relativo all'interquartiere in che cosa consiste? in parte nella realizzazione di una nuova strada, quindi con degli interventi anche importanti che sta realizzando Società Autostrade e una parte invece in un adeguamento, miglioramento di una parte della viabilità esistente, quindi per alcuni di questi interventi in questi 4 mesi ci si concentrerà proprio per evitare un altro tipo di disagi, perché altrimenti si sarebbe dovuto ragionare su un traffico a sensi alternati con i semafori, quindi qualcosa che avrebbe probabilmente non solo portato agli stessi disagi, ma avrebbe persino anche allungato i tempi. Invece chiediamo 4 mesi di sforzo e di sacrificio un po' a tutti, però per avere un'infrastruttura importante e poterle poi a febbraio riaprire una circolazione che migliora già la viabilità della città. Ecco, ora passiamo da quella che è la novità, dal nuovo all'antico, facciamo questo passo nel passato, scusate il gioco di parole, e appunto per quanto riguarda dei lavori che sono in corso in Piazza del Popolo, sul restaurato della piazza, ma soprattutto sui ritrovamenti archeologici che hanno radunato persone da tutte le parti. Sì, hai detto bene, verissimo, ci sono stati davvero tanti curiosi, tanto interesse, tanta anche passione nel seguire i lavori di rifacimento della pavimentazione di Piazza del Popolo. Questo è un intervento da 600 mila euro, 600 mila euro di quadro economico, 400 mila euro di lavori, con la quale stiamo intervenendo sulla piazza, stiamo intervenendo per di fatto mettere in sicurezza il rifacimento della pavimentazione, un rifacimento che prevedeva sin dal progetto di febbraio la sostituzione dei sanpietrini, quindi la possibilità di recuperare sia i sanpietrini che i cordoli, quindi queste pietre che di fatto disegnavano, andavano a rappresentare un disegno intorno alla fontana, che prevedeva quindi già febbraio la possibilità di recuperare gli stessi materiali, quelli che è possibile recuperare ovviamente, perché se noi oggi andiamo a vedere anche quelli che sono rimasti, molti sono completamente frantumati o sporchi, quindi non è possibile riutilizzarli tutti, però quelli che sono possibili, è possibile riutilizzarli andremo a riposizionarli per riproporre lo stesso disegno della piazza, una piazza quindi che dovrà essere, sarà una piazza rispettosa della storia della città, della storia del passato, però che possa anche guardare con un minimo, con un po' di speranza al futuro, quindi con un restyling che possa ridargli quella lucentezza e quella dignità che una piazza di una città importante come Pesaro deve avere, quindi andremo nelle prossime settimane, insomma stiamo davvero correndo con più squadre di posatori che stanno lavorando sulla piazza e vado poi alla tua domanda, perché durante, in particolare in due aree diverse della piazza sono stati rinvenuti dei reperti, in particolare in un tratto, quello interessato poi anche dall'intervento di Marche Multiservizi per il rifacimento dei servizi, sono stati rinvenuti degli scheletri, quindi delle ossa, probabilmente risalenti al periodo medievale, quindi pare che ci fosse un vero e proprio cimitero lì nella parte interessata, stiamo parlando a pochi centimetri in realtà dal suolo, abbiamo dovuto andare in profondità per trovare questi reperti, questi reperti che sono stati documentati dagli archeologi sotto la direzione scientifica della sovrintendenza e quindi quello è stato un primo ritrovamento che ha destato tanta curiosità. Nell'altro angolo della piazza invece che cosa è accaduto? È accaduto che quella parte del massetto su cui poggiano i sanpietrini era una parte particolarmente deteriorata e quindi si è scelto di andare a rimuoverla per andare a realizzarla diciamo più resistente. Durante questa rimozione ci siamo accorti che a una profondità uguale di pochi centimetri insistevano delle mura, delle mura che poi saranno gli archeologi, sarà la sovrintendenza insieme al comune di Pesaro a raccontare le scoperte che sono state fatte, però stiamo parlando molto probabilmente di fondazioni, di abitazioni private, anche qui di epoca medievale che insistevano sulla piazza e che erano state probabilmente demolite perché rovinavano la vista della chiesa che era a retrostante rispetto alla piazza. E quindi questo è stato questo lavoro ha poi insieme anche qua sotto la direzione scientifica della sovrintendenza si è deciso di provvedere a una fase di scavo di un ulteriore metro e mezzo circa per andare a documentare, raccogliere dati e informazioni e quindi se vogliamo un lavoro sulla piazza che consisteva nel rifacimento della pavimentazione è stata anche l'occasione per scoprire cose nuove della città. Hai parlato della possibilità di un cimitero all'interno di quella che era l'antica area che oggi è Piazza del Popolo e parliamo adesso invece di un cimitero che è quello attuale del Comune di Pesaro perché oltre ai lavori nella piazza e quelli degli interquartieri ci si sta lavorando anche a dei lavori che prevedono un nuovo parcheggio nell'area cimiteriale. Sì, siamo in via Mirabelli, qui siamo di fronte al cimitero centrale, questa è un'operazione iniziata anni fa, tempo fa anche grazie a una forte spinta del mio predecessore di Enzo Belloni che aveva sin da subito insieme si è ragionati sul trovare una risposta rispetto all'esigenza di parcheggi anche per il mercato, quindi per il mercato cittadino che si svolge tutti i martedì sul San Decenzio, questo mercato portava via dei parcheggi importanti utilizzati nella città e di fatto finiva per avere meno un parcheggio proprio per i fruttori del mercato. Inoltre siamo un parcheggio importante anche per il cimitero stesso perché sia per la giornata alle giornate del 2 novembre, quindi i santi e i morti, che per altre ricorrenze diventa un parcheggio assolutamente importantissimo, un parcheggio che stiamo correndo insieme alla ditta che sta realizzando i lavori perché in realtà è un lavoro che è stato affidato a privati e quindi sta portando avanti una vera e propria opera pubblica dei privati e stiamo lavorando per aprirlo proprio per il weekend dei santi, quindi speriamo già dalla fine di questo mese di poter avere un parcheggio da 150 posti auto in più e si stanno ultimando le operazioni relative alla realizzazione del tappetino, di una segnaletica orizzontale e segnaletica verticale e di un'illuminazione pubblica. Questa è la prima fase di un intervento poi in realtà più ampio che includerà anche altri due lotti, però in questo momento è già una risposta assolutamente importante di 159 parcheggi gratuiti. Il secondo parcheggio gratuito di dimensione importante che inauguriamo è nel giro di pochi mesi. L'altro è quello della stazione, giusto? Allora il terzo, anche quello alla stazione è accanto, accanto alla stazione è lo stesso un parcheggio bianco molto utilizzato, già molto utilizzato, gratuito alle porte della città perché con due sottopassi si raggiunge una parte della stazione e l'altra si è direttamente nel centro storico, anche se in realtà nel ragionamento ero partito dal parcheggio di Villa Marina, il parcheggio Villa Marina è un fondo a Viale Trieste e anche quella infrastruttura che abbiamo visto quest'estate è stata davvero molto utilizzata e molto apprezzata, ha funzionato molto bene, era un parcheggio, lavori per 200 mila euro che hanno dato respiro a tutto il lungomare in realtà, ha funzionato quindi molto bene, è stato apprezzato ed è un'infrastruttura anche quella importante perché quando parliamo di mobilità sostenibile, quindi di pedonalizzazione, di spinte per incentivare questo tipo, una mobilità sana, è chiaro che bisogna anche fornire degli spazi di parcheggio adeguati e quindi in questo caso quello è un intervento lo stesso che ha funzionato bene, ora corriamo per concludere quello di Via Mirabelli. Diciamo che ormai se vai in Viale non trovi posto, a Pesaro vai direttamente a Villa Marina, dici almeno lì un posto riesco a trovare. Non era così scontato? Inizialmente no, è vero, quello sì. Dopo i parcheggi sono sicuramente un polverone che ogni volta viene sollevato dai pesaresi, un altro polverone che viene spesso sollevato è quello delle strade, fondamentalmente si sta provvedendo anche a risolvere questo problema, c'è stato il piano asfalti, già in poche settimane otto strade abbastanza principali tra il centro e fuori dal centro sono state ultimate e sta continuando ancora. Assolutamente sì, il tema delle strade è un tema molto sentito, è un tema su cui se vogliamo una sproporzione rispetto a quello che hanno altri enti come ANAS a disposizione per poter sistemare e mettere in sicurezza le strade rispetto a quello che hanno i comuni in proporzione ai chilometri di strade che abbiamo. Pesaro ha un chilometraggio di strade elevatissimo e tutti gli anni mettiamo sempre più risorse per cercare di avere delle strade che siano sicure, in particolare per ciclisti, per pedoni, per le due ruote e per tutti coloro che la percorrono. Quest'anno abbiamo approvato un piano asfalti da 1.300.000 euro, quindi una cifra importante che si consente di arrivare su tante strade della città, ma lo dico in modo molto chiaro, è impossibile riuscire a dare in poco tempo tutte le risposte che servirebbero, perché in realtà mi rendo conto spesso che quando arrivano segnalazioni le esigenze sono giustificate e comprensibili, però nel tempo speriamo di riuscire a fare tutti gli interventi che servono. Quest'anno un piano asfalto è di 1.300.000, la scelta delle strade è avvenuta con una concertazione anche con i quartieri, quindi sentendo i vari consigli di quartiere si sono definite le priorità. La linea che è stata data è stata quella di privilegiare le strade a più alta percorrenza, anche se talvolta le richieste avvenivano, giustamente, magari più per la via sotto casa rispetto a che per la via che in realtà facciamo tutti, però abbiamo cercato di privilegiare le strade più importanti, avevamo a marzo-aprile realizzato 400.000 Euro di asfaltatura sull'interquartieri, sul tratto degli interquartieri che era più ammalorato, quindi un lavoro che abbiamo fatto di notte proprio per cercare di ridurre al minimo disagi che in effetti non ci sono stati, 1.300.000 Euro invece siamo partiti con una serie di strade importanti per la città, a queste strade che quindi in questi giorni proprio in corso via Legorizia, sono in corso altre vie importanti della città, alcune strade, tratti di strada di Lago Maggiore, via Domminzoni, insomma ci sono diverse strade importanti della città che sono in corso proprio in questi giorni, tra le strade che è lo stesso e sono in questi giorni qua oggetto di intervento di asfaltatura, ma non in questo caso del Comune di Pesaro, quanto di Marche Multiservizi e Via Fratti. Via Fratti come dicevamo è una strada che durante il periodo dei lavori della bretella, del proseguimento degli interquartieri sud di Muraglia sarà una strada che sarà più trafficata e quindi abbiamo chiesto a Marche Multiservizi di anticipare l'intervento di riasfaltatura e di ripristino, perché prima c'erano dei ripristini neanche eseguiti particolarmente bene e quindi quella strada richiedeva un intervento di manutenzione straordinaria e importante, Marche Multiservizi si è fatta trovare pronta e quindi sta provvedendo alla conclusione della riasfaltatura di Via Fratti. Questo ha portato anche uno slittamento della realizzazione poi della pista ciclabile prevista su Via Fratti nelle settimane successive alla riapertura di Via Carloni, quindi dopo metà febbraio riprenderemo la fase che è pronta per avviare lavori su Via Fratti per la realizzazione della pista ciclabile. Comunque questo è un altro intervento di asfaltatura importante sicuramente per tutti i ciclisti, motociclisti, ma anche per gli automobilisti. Provando a sommarle, si è parlato di asfalti su decine di strade, tre nuovi parcheggi cittadini, rifacimento della piazza del popolo, tutto questo ha portato a una cifra record, cioè è un investimento sulle opere pubbliche mai raggiunto fino ad ora da parte della città. Sì, è detto bene perché esattamente un paio di settimane fa, lunedì scorso, abbiamo provato in Consiglio Comunale la quinta variazione al piano trennale delle nuove opere. Il piano trennale delle nuove opere è di fatto un libro che una volta veniva definito, un'altra delle dette lavori, il libro dei sogni perché conteneva tutta una serie di investimenti che poi non avevano un'effettiva copertura economica per potersi realizzare. Invece quest'anno, anche grazie al ruolo importante che ha svolto il PNRR per i comuni, il piano trennale delle opere è qualcosa di veramente concreto e ha raggiunto una cifra record, una cifra di 136 milioni di euro che fa paura delle volte soltanto dirsi e sono risorse vere di finanziamenti che sono già stati decretati, quindi da parte in particolare del Ministero dell'Europa o della Regione, che quindi grazie a questi trasferimenti ottenuti con il PNRR ha raggiunto una cifra record, una cifra record che dico due numeri, il PNRR da solo pesa 80 milioni di euro. Il PNRR significa, giusto per dare un esempio, si sviluppa poi su vari ambiti, un ruolo importante ce l'hanno le scuole, sulle scuole interveniamo con degli interventi importanti, 5 milioni e mezzo per una ristrutturazione e riqualificazione della scuola Manzoni, 3 milioni e mezzo è il polo di infanzia di Via Rigoni, quindi la Scarabocchio, lo stesso l'Anna Frank, l'Anna Frank e la Via Rigoni sono scuole che saranno, l'Anna Frank è la scuola elementare di Cattabrighe, che verranno demolite e ricostruite in un'ottica NZEB, NZEB è quell'acronimo che sta Near Zero Buildings, quindi edifici che avranno un abbattimento dei consumi tale da avere degli edifici a consumo quasi zero, dal punto di vista, per intenderci come lo è la Brancati, la nuova scuola di Vela Marmora, quindi delle scuole al top dal punto di vista dell'efficientamento sismico, quindi la sicurezza per i ragazzi, al top dal punto di vista efficientamento energetico e anche con degli spazi, una vivibilità degli spazi per gli alunni che sia più in linea con le nuove modalità didattiche, quindi questi sono interventi importanti, solo questi sulle scuole, poi se ne sono davvero tanti altri, l'ultima variazione di bilancio è quella che ha consentito di portare nel bilancio del comune questi tre finanziamenti ottenuti dal PNRR Sport. PNRR Sport erano dei bandi rivolti ai comuni, tre diversi bandi, Pesaro è davvero l'unica città italiana che è riuscita a giudicarsi tutti e tre i bandi, erano tre bandi importanti e diversi tra loro, uno è quello ottenuto grazie alla partnership con la Federazione Italiana Basket, la Federazione Italiana Pallacanestro, che ha deciso di scommettere su Pesaro e quindi di realizzare a Pesaro un centro federale di pallacanestro, quindi riconoscendo anche una sensibilità importante per il mondo della pallacanestro, 4 milioni di Euro che ci consentiranno di intervenire, partire dal polo della piscina di Via Togliatti per intendersi, che diventerà il punto centrale di questo centro federale di pallacanestro, con la realizzazione poi di due altri importanti punti di allenamento per i ragazzi, per la giovanile nazionali, piuttosto che per tutti coloro che vivono la pallacanestro, poi abbiamo altri due finanziamenti importanti rivolti in un caso, diciamo, rivolti alla realizzazione e alla riqualificazione di cittadelle dello sport, cittadelle dello sport vuol dire che dovevano mettere insieme almeno tre diverse discipline sportive, una di queste importante da un milione di Euro l'abbiamo individuata nell'area che gravita intorno al campo da baseball, quindi il campo da baseball, lo stadio Norberto Crinelli che verrà riqualificato con interventi importanti, quella è veramente una chicca che pochi conoscono, però è uno stadio davvero molto bello che può essere utilizzato e valorizzato ancora di più, anche perché no, portandoci eventi, portandoci insomma anche bambini a fare attività fisica, perché è attività motoria e quindi quello stadio verrà riqualificato con interventi importanti, in questo caso efficientemente energetico, la realizzazione di una clubhouse, quindi un intervento importante lì, con anche la riqualificazione del campo da basket, il campo Nike, che è esattamente nelle sue immediate vicinanze. Con le 5 torri, giusto? Esatto, con le 5 torri. E poi abbiamo un altro milione e mezzo, sempre con PNR Sport, che va a completare, se vogliamo, l'area sportiva intorno all'impianto di ciclo rotellistica. L'impianto di ciclo rotellistica, dove i lavori dovranno partire a breve, è un intervento quello da 800 mila Euro finanziato col Comune, con anche qua un contributo ministeriale importante, noi con il milione e mezzo andremo a realizzare un impianto di illuminazione funzionale, sia l'impianto di ciclo rotellistica, ma anche una serie di attività complementari che abbiamo pensato di realizzare, ovvero nello specifico un'area da calisthenics importante, dell'area di preparazione atletica per gli atleti, e anche un impianto, una parete d'arrampicata, quindi che a Pesaro non esiste una parete d'arrampicata di comunali, in realtà è uno sport che sta crescendo anche nei numeri, praticato e che sta crescendo nei numeri, su cui abbiamo anche deciso di scommettere. Quindi solo a 6 milioni e mezzo vale lo sport, è l'ultimo PNRR nella sua funzione anche sociale, se vogliamo, che ha, quindi non soltanto come opportunità per riqualificare degli edifici, degli spazi pubblici, ma proprio per andare a scommettere sulla funzione sociale e sportiva che ricopre. Ecco, noi siamo giunti al termine, abbiamo fatto un lungo elenco appunto di tutti i lavori in corso, letteralmente, alcuni conclusi, altri in corso, altri che si spera appunto verranno a seguire, una Pesaro quindi che cambia, che si rinnova, che cerca di riqualificare le vecchie aree, ristrutturare quelle storiche. Questo è stato un po' il quadro cittadino e quello che attende la città e il comune di Pesaro, io da Riccardo Polsi ti ringrazio per la tua presenza qui a Pesaro TV e ringrazio tutte le telespettatrici e i telespettatori che ci hanno seguito qui su Tele2000. Grazie a tutti! Grazie a tutti!